Ciao a tutti, sono Mauro del portale del canale Torino Sposi Web TV. Volevo augurare a tutti voi e alle vostre famiglie un Buon Natale e un felicissimo Anno Nuovo da parte mia e da tutte le persone che hanno collaborato con me quest'anno. Ciao a tutti, sono Matteo Tosi, consulente di Marketing e PR. Prima di tutto i miei più calorosi auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti voi e alle vostre famiglie. In questi mesi abbiamo avuto l'opportunità di leggere su molte testate che il 2022 porterà 2,5 milioni di matrimoni nel mondo e ciò non accadeva dal 1984, quindi che dire, 2022, ti aspettiamo a braccia aperte, ciao! Buon Natale e Buon Anno a tutti voi! Facciamo gli auguri e vi ricordiamo, se non l'avete ancora fatto in questi giorni di festa, seguite Let's Celebrate la Winter Edition per essere scintillanti! Assolutamente sì! Ciao, auguri! Ciao ciao a tutti! Volevo farvi un augurio sincero di Buon Natale! È un 2022 ricco di soddisfazioni, emozioni, trasformazioni, di cose meravigliose, di metamorfosi! Buon 2022! Ciao ciao! Buon Natale, buone feste! Grazie a tutti e buone feste a tutti! Buongiorno a tutti, volevo farvi i miei auguri di Buon Natale e di Buone Feste per un sereno 2022 in grande ripresa! Ciao! Sì, buonasera! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Grazie! Ciao a tutti, sono Giulia Biffis e vi auguro un Felice Natale a voi e i vostri cari e vi aspetto nel nuovo anno al nostro atelier The Wedding Lab More a Milano. Un bacio! Ciao, sono Giada di Spose Guerriere. A nome mio e a nome del gruppo auguro a tutti un sereno Natale e un buon anno nuovo. Auguri! Tantissimi auguri di Buon Natale dalla primitera eventi e speriamo che il nuovo anno ci porti tantissima serenità, gioia e bellezza in tutti i nostri eventi. Buon Natale! Buongiorno a tutti, io sono Bruna Bessio Pianetto e volevo farvi degli auguri speciali per un sereno Natale da passare insieme ai vostri affetti più cari e augurarvi un buon anno, un buon anno pieno di buone aspettative, di sogni e di tante cose belle. Vi aspetto il prossimo anno da Buona Couture a Saluzzo. Un bacio! Ciao, sono Michele di 8420 e vi faccio i miei più cari auguri per un meraviglioso Natale. Ciao, sono Luca Di Vito. Con questo breve videomessaggio voglio augurare a nome mio e a nome di tutta la Incruisis Italia un buon Natale ma soprattutto un sereno anno 2022 a te Mauro e a tutti gli amici di Torino Sposi Web. Volevo fare gli auguri a tutti per un felice e sereno Natale, sono sicura che il 2022 sarà un anno di matrimoni e di tantissime emozioni. Un bacione e Buon Natale a tutti! Buon Natale! Un messaggio veloce per augurare un Buon Natale a tutti gli amici di Torino Sposi Web. Vi aspettiamo nel 2022 con tutte le nuove novità su Wedding insieme a Mauro e a noi, Wedding Channel. Auguri! Sono Maria Pellegrino, titolare di Margie Evans e voglio fare a tutti voi e alle vostre famiglie tanti auguri di Buon Natale. Che sia un Natale di gioia, un Natale di speranza ma soprattutto un Natale d'amore. Auguri a tutti! Buongiorno a tutti, sono Isabella D'Ambrodio Wedding Plan e vi auguro un Buon Natale, buone feste e con un brindisi! Buongiorno Mauro, buongiorno a tutti, sono Alda, titolare della Dream Event, agenzia, eventi e cerimonie. La nostra agenzia offre dalla semplice consulenza all'organizzazione completa del vostro evento. Nella speranza che possiate passare un sereno Natale con i vostri cari, auguro con tutto il cuore sereno Natale a tutti voi. Nella speranza di un 2022 migliore, perché veramente ne abbiamo bisogno tutti, auguro un felice anno nuovo a tutti quanti. Grazie Mauro di Torino Sposi Web per la possibilità di questo video. Buongiorno a tutti i nostri cari, buongiorno a tutti i nostri clienti, amici, così, fortuni così, per un bellissimo, grande, affascinante Natale e buon Natale. Ciao a tutti e a presto! Ciao ciao! Auguri a tutti gli espositori e a tutti i futuri sposi, che sia un sereno Natale e un felice 2022. Da Alberto Di Caso e Sposin, Palazzina di Caccia di Stupinigi. Arrivederci! Buon Natale e un felice anno nuovo da Pring Boutique Wedding, la cancelleria del tuo matrimonio. Tanti auguri! Buon Natale e un felice anno nuovo da Pring Boutique Wedding, la cancelleria del tuo matrimonio.